forse una delle domande più ambite tra le domande più esistenziali messe tra le poche nel mondo che attanagliano le persone e qual è che cos'è l'arte cos'è l'arte e soprattutto è possibile definire l'arte devo dire che questa domanda interessa molte persone non soltanto se sei se ti ritrovi comunque a vivere l'arte così diciamo visiti musei sei attratto dall'arte anche per fatti tuoi non perché magari ci lavori o ti ritrovi comunque a coltivare una passione per forza puoi essere anche attratto dall'arte così in modo anche superficiale perché magari un'opera ti attira o perché ti comunica qualcosa in particolare e devo dire che questa domanda assolutamente è molto ricorrente tra i pensieri delle persone che vengono attratte credo che la parte principale della domanda che molto spesso non ha una risposta è dettata da un fatto fondamentale ed è quello di provare a inscatolare forse uno dei concetti che più sfugge all'etichette e io in primis come ho sempre detto in tantissimi ambiti l'etichetta dell'artista me la sono appioppata attaccata addosso non soltanto come immagine esistenziale ma anche ponderando l'idea di un mondo che vuole scatolarti in tante etichette allora mi scelgo quella più svincolante allo stesso tempo credo che il che cos'è l'arte parta anche dal concetto d'artista che nella mia visione non è tanto se lo sei o non lo sei ma in principal modo se ti senti davvero tale perché fin quando tu dici che sei artista ma ancora tuo non lo senti non lo trasmetterai mai deve essere qualcosa che parte da prima non è come un'altra etichetta un altro lavoro in cui tu svolgendo quella operazione in qualche modo acquisisci la competenza tale che il mondo te lo riconosce quasi prima tu che devi sentirti tale e poi il mondo deve far sì che ti riconosce come tale con l'etichetta e da quello si può andare a analizzare qualcosa che appunto è difficile da incasellare ed è difficile perché perché noi vediamo l'arte come quella schiera di elementi o d'operazioni che le persone in qualche modo a livello sociale l'hanno definita ma credo che noi dobbiamo andare a ritroso a cercare che cosa sia veramente l'arte per noi e quindi approcciare questa cosa voglio sapere che ne pensi pure tu su una visione estremamente personale non drogata da quel che si dice è arte o non è arte cosa si dice in generale la società cosa dice che è l'arte io la vedo così nel senso quello che ho carpito nel tempo è che l'arte viene divisa in due settori che troppo spesso vanno a mischiarsi l'arte commerciale e l'arte in sé intrinseca del valore più profondo molto spesso si scambia l'arte con l'arte commerciale cioè nel momento in cui un personaggio un'opera viene accettata a livello di mercato allora quella è arte quindi più tu sei valutato e più sei un grande artista che è un grandissimo errore perché pensare che tutti colori uguali ancora non vengono dal mercato riconosciuti per questo ragionamento questa equazione 1 a 1 uno dovrebbe dire vabbè allora quello non è un artista quella non è un'opera d'arte ma è uno schizzetto in bosso in disegno quel che sia e è un errore madornale perché qualsiasi artista parte sempre in un primo step tranne alcuni dei esempi costruiti a monte da grandi mercanti d'arte come personaggi che non sono artisti ma che col tempo il mercato l'ha riconosciuti e l'ha rivalutati perché poi a quel punto si deriva in un'arte che è più mercato finanziario perché più possiedi opere e prodotti di un artista che più diventano scarsi entrano in scarsità e più salgono di valore per due motivi uno per principio di scarsità ed ovviamente per un altro fattore fondamentale che è quello di ho tantissima collezione nella mia collezione opere di quel personaggio devo fare in qualsiasi modo per far sì che quella mia opera sale di valore così che io ho in mano perlomeno finché non faccio uno scambio economico una plus valenza io invece credo che ovviamente mi distacco da questa cosa sociale da questo pensiero sociale verso l'arte io credo che l'arte l'arte per me ecco l'arte per me è quella cosa che tu riesce a trasportare te stesso tramite un qualcosa che sia il corpo materiale riesci a riprodurre una parte di te o tutto quanto te stesso attraverso te stesso e quindi usi i modi più disparati no quindi puoi usare un pennello puoi usare una penna puoi usare una matita puoi usare il tuo corpo come fa abramovic e tu comunque arrivi per forza le persone perché lì dentro ci sei tu lì dentro c'è la tua anima c'è il tuo essere c'è il tuo vissuto c'è tutto quanto quindi anche attraverso per esempio un puntino su un foglio un taglio che può essere c'è dietro a all'invenzione all'artista c'è un'intuizione un un qualcosa che riguarda comunque la tua anima il tuo essere quella sensibilità quel quell'empatia anche riguarda la società la vita perché proprio quello che è l'artista è sensibile molto sensibile a ciò che lo circonda secondo me si arriva a toccare cose che non può uno che ha soltanto talento toccare nel senso che tu puoi essere bravissimo a disegnare tantissimo e essere preciso fare delle cose veramente minuziose no nel dettaglio ho visto artisti disegnare come se fosse una fotografia cioè tu guardi praticamente una fotografia non trovi una differenza fai una foto e vedi questo qui che disegna dici vabbè ma sono uguale sono due foto ecco lì quel tipo di arte non so se definirlo arte o solamente talento perché la differenza sostanziale per me è che non mi trasmette niente cioè per quanto è bello io posso dire è bellissimo è fatto bene ma cosa mi trasmette cosa c'è lì di quell'artista di quella persona cosa c'è su quella tela bravura talento sei bravo ma poi e infatti è la stessa cosa che su cui stavo ragionando mentre ne parlavi non vedo l'arte a 360 gradi nel fotorealismo della pittura per esempio se dovessimo prendere quello come non la vedo per forza nella scultura credo che qui ci sia una bella differenza nella mia visione tra l'artista e l'artigiano che è un grande artigiano un grande disegnatore un grande scalpellino scultore qualsiasi altra disciplina che può inserire e appunto io vedo l'arte in maniera più profonda c'è l'esistenza dell'arte per me sussiste quando si crea un nuovo linguaggio si crea un nuovo linguaggio che prosegue nel tempo che intendo che quando tu assorbi l'opera d'arte qualsiasi essa sia da quella che riconosciamo almeno a livello sociale più arte quindi quella precedente quella fatta delle discipline artistiche più riconosciute la pittura la scultura e così via alcuni piccoli elementi di fotografia che poi col cinema insomma è stata mischiata tra il reportage e l'arte vera e secondo me pure sulla fotografia e sul cinema c'è tanto da fare uno spaccato su quanta differenza c'è tra il prodotto di un grande regista o di un grande fotografo che però è un artigiano e invece l'artista che usa il mezzo esclusivamente come strumento quindi un linguaggio che prosegue nel tempo in che modo può proseguire nel tempo può proseguire nel tempo quando tu l'opera d'arte la vedi e non la consumi non la consumi in che modo quell'opera d'arte ti ispira da quel linguaggio nuovo che si è creato che non è per forza un nuovo un nuovo mondo quindi non soltanto nuovo linguaggio inteso per esempio impressionismo che apre una nuova porta o cubismo che inizia a scomporre quella che è una visione in 3d e te la mette su tutte quante le proiezioni su un piano di essere per forza un inventore in questo senso per me no per me l'importante è che quella quell'opera appunto crea un linguaggio che prosegue nel tempo e quindi per proseguire e questo io lo vedo perché appunto riesco poi a collocarlo in delle discipline in degli ambiti che non sono accademicamente pensate come arte che per tanti può essere la fotografia ma io lo vedo anche in altri ambiti ne parlai tempo fa col mio amico lorenzo del discorso dell'alchimia nel bartender quindi nella creare l'alchimia di determinati elementi no che sono solidi o liquidi e che potenzialmente non capisci come da singoli uniti a livello alchemico possano generare un nuovo linguaggio una nuova esperienza lo riesco a vedere perché perché prendendo questo caso o magari quello più tradizionale la pittura una scultura il linguaggio che prosegue l'opera che non si consuma per me ti ispira al punto tale che dopo tempo ti ha cambiato internamente e allo stesso tempo ti spinge in qualche modo alla creazione tua stessa in quel caso per me è la vera opera è la vera arte e quindi si svincola totalmente dal discorso del mercato dell'arte cioè nel mercato dell'arte ci può essere tantissima provocazione che per me in alcuni ambiti arte e invece tantissima provocazione che è semplicemente un bel gioco di prestigio volto a pompa un mercato a creare un personaggio quindi quando quel linguaggio che prosegue quell'opera non si consuma ti fa sì che in qualche modo tu sei ispirato a creare il tuo nuovo linguaggio e la tua nuova versione stimolando la tua essenza creativa dal mondo delle idee per fare un parallelismo per spiegare un attimo e poi voglio sapere che ne pensi pure tu del perché io faccio questa distinzione netta per esempio io la distinzione la vedrei con l'oggetto di design che per quanto meraviglioso nella gran parte dei casi rimane un oggetto perché perché nel momento che lo osservi che ne assorbi lo consumi è finito lì non ti ha lasciato niente anche se a livello di design è una cosa meravigliosa voglio chiedere la tua e poi dopo vorrei affrontare la visione che alcuni hanno della differenza artistica che non concorda troppo con me però secondo me potrebbe essere un bello spunto di riflessione da cui attingere allora quindi seguendo il filone del barman anche uno chef potrebbe essere un artista e abbiamo abbiamo visto diversi documentari dove comunque vengono mostrati dei ristoranti stellati e lo chef se li trova a fare dei piatti che sembrano dei quadri quindi possiamo seguire appunto questo filone da te da te adesso aperto e dicendo che appunto anche uno chef potrebbe essere un artista anzi secondo me lo è un artista e in questo caso però consumi l'opera cioè tu te la mangi sostanzialmente sì io intendo un consumo diciamo un po più parallelo nel senso sì appunto e uno potrebbe dire sì vabbè ma allora come facciamo a scendere il bartender e lo chef artista o l'artigiano che comunque è incredibile rispettabilissimo non è che so do piani diversi ma secondo me invece è grossolana è grossolana ma nessuna delle due mette su un piano diverso l'altro credo che siano due sport diversi cioè non li paragonerei è come paragonare il calcio e il basket li vedo in due mondi proprio diversi due campionati a parte e ognuno gioca quello che più lo ispira lo assorbe io apprezzo tantissimo l'artigianato ma l'ispirazione che mi dà uno che riconosco come artista non ha uguali non è impagabile per me come posso farti una differenza la differenza da posso fare intanto sull'esperienza che vivi e l'esperienza che vivi ha un'idea dietro ha un concetto dietro e in qualche modo ti prepara già prima a vivere quell'esperienza che sia nel bartending che sia nella cucina il concetto che c'è dietro quello che crea è che ti sta preparando tutta una serie di esperienze sensoriali che creano questo nuovo linguaggio che ti ispira e soprattutto che ti porta poi a spingerti dopo verso l'ispirazione che hai tratto quindi in quel caso se io da quell'esperienza ho vissuto un'esperienza sensoriale che l'artista in sé mi ha preparato a 360 gradi quindi mi ha introdotto in un ecosistema che già in qualche modo è studiato da lui con delle esperienze sensoriali che siano di gusto dolfatto di tatto e visive già studiate da lui per crearmi una suggestione quindi per me l'arte è anche la suggestione che ti crea più sei suggestionato e più l'artista è raggiunto l'eccellenza nella sua visione e che ti ispira quindi magari per esempio davanti a un artista un alchimista del bere con un'altra persona assumi quella quell'elisira alchemica quella quella pozione alchemica e quella cosa ti stimola a generare una visione che non è la chiacchiera ci facciamo la chiacchiera davanti a un drink ma tutta quell'esperienza di suggestione a creare cose nuove esperienze nuove linguaggi nuovi progetti nuovi a livello artistico lì te lo riconosco come artista e te lo scindo da l'artigiano che magari un grande esecutore che però non inserisce degli elementi che a livello sensoriale puntano a suggestionarti e deve essere qualcosa intrinseca in più secondo me quei personaggi possono essere definiti tali se si sentono tanti non si sentono anche se tu dici per me un'opera artistica incredibile tanti non si sentono come tali sì sono d'accordo con te soprattutto quando dici che ti deve intanto l'arte ti deve l'arte in questione ti deve emozionare ed ispirare quando non ci sono queste due cose secondo me possiamo anche scartarla nel senso che è vero che è molto soggettivo però a un certo punto bisogna essere anche oggettivi sulle cose nel senso che spesso e volentieri vengono scartati degli artisti che riescono a comunicare qualcosa di loro della società ma che non viene compresa allora a quel punto mi chiedo come mai la gente o la gente vabbè comunque nel personale o anche nel gran numero perché no non riesce a comprendere quando è che un artista non viene compreso si dice che non è compreso comunque che sta avanti quei tempi o che non si trova sintonizzato nel presente secondo me quando si forma tra le persone una lune di omologazione verso l'arte nel senso che a un certo punto si forma un verso dove tu dici ok tutta l'arte deve essere in questo modo altrimenti non è percepita come arte un po come il discorso che stai facendo prima dell'artista che viene riconosciuto viene apprezzato a livelli alti e quindi comprato a livello del mercato eccetera ma ci sono molti artisti anche in passato tipo abbiamo Andy Warhol che ha proprio fatto un gruppo di persone cioè ha creato la sua factory dove praticamente riuniva artisti di tutti i tipi e lì comunque ci sono tra quegli artisti che non venivano compresi e ancora oggi non vengono apprezzati perché dice vabbè ma quello ha fatto uno scarabocchio ci ha buttato una scritta in mezzo ha fatto una cosa strana ma a me non mi piace ma a me troppo aggrise per me troppo aggrise per me troppo cioè alla fine se non ti emoziona è vero che deve essere a livello personale però c'è una cosa oggettiva che l'arte può fare può trasmetterti che è quella cosa non di innovazione però un azzardo come posso spiegare un qualcosa che dico voglio comunicare questa cosa e lo faccio nel mio modo come so farlo io poi se a te arriva bene se a te non arriva ok però io intanto lo faccio e quel fare ti porta da qualche parte perché tu già lo stai facendo cioè tu stai portando la tua persona la tua arte personale tu stai portando te stesso su quella tela e comunque a qualcuno arrivi e non deve essere per forza sul mercato cioè tu non dovresti avere la visione io devo vendere per essere un artista ma tu sei un artista comunque tu se non ti ci senti hai bisogno per forza di un etichetta non hai bisogno di un etichetta vedo però l'imprescindibilità di questo perché comunque da artista se tu fai qualcosa butti fuori qualcosa vuoi essere riconosciuto dall'esterno se non fai tipo la stessa cosa che tanti fotografi dice io scatto le foto per me sì ma di che stai a parlare è ovvio lo dico da fotografo è ovvio che tu vuoi mostrare quello che per te la tua visione del mondo che sia un reportage che sia l'artista quindi usi il mezzo per manipolare la realtà hai comunque voglia hai bisogno anche dell'approvazione perché essere in artista e sentirsi tale anche mi metto in discussione in maniera pesante è anche un estremo a visione narcisistica del voler uscire fuori perché è un'immagine che non è più l'immagine d'un tempo non è l'immagine rinascimentale o post rinascimentale in cui era vista male perché fino al 1700 1800 fa l'artista era una cosa da poraccio cioè era vista male cioè tu l'artista non era così il grande passo l'hanno fatto gli impressionisti cubisti e poi dopo credo che attribuirei ok la principalità a quello e soprattutto magari a in picasso da lì gente che in vita era molto estremamente famosa e poi quello che hai citato tu il grande boom dell'artista star più famoso della rock star che è randy quarrel che ha ribaltato il concetto di arte modificandolo da quello che era il concetto del bello quello credo che però sia imprescindibile quindi tu hai necessità di farti riconoscere dal mercato e infatti è giusto che tu non punti a fare arte per fatturare per arricchirti ma l'arricchimento è una conseguenza del tuo riconoscimento artistico ma allo stesso tempo devi puntare a inserirte nel mercato perché l'esposizione grande avviene grazie a quel mezzo e quindi credo che qui poi ci siano due cose una la mistificazione del denaro nell'arte due la pantomima raccontata dell'artista squattrinato che è una cazzata cioè per esempio uno non sa che negli ultimi studi che hanno fatto c'è stata tantissima università stanuidensi e una scozzese di cui non ricordo il nome che hanno analizzato grandi artisti uno dei più famosi michelangelo e hanno scoperto che lui era ad oggi in trasposizione multimilionario quindi l'immagine dell'artista squattrinato è molto poco realistica e soprattutto tante volte vi è usata come scusa per esempio quando tu hai detto magari vengono non capiti sono anticipatori dei tempi ci possono essere delle eccezioni ma molto spesso è una scusa che ti tiri una scusa spesso dell'artista stesso di chi c'è intorno a lui perché perché se ci fa caso tutti quanti i grandi ribaltatori dell'epoca artistica hanno fatto qualcosa che è stato un punto di rottura il punto di rottura è qualcosa che precedentemente non sarebbe mai stata accettata prima ho parlato del cubismo di picasso ma io vorrei fare un esempio più vicino al suolo italico ed è lucio fontana fontana ha rotto ogni schema in che modo lui ha preso perché tante persone dicono perché poi la se entriamo secondo me dovremmo approfondire il discorso della provocazione dell'arte contemporanea a questo voto fa pur io che è molto interessante e lucio fontana è stato uno dei primi oltre a warroll a essere quei personaggi artisti per cui le persone dicevano potevo fa pur io infatti lì la questione è più un discorso tu lo potevi fare sì ma dopo che l'hai visto quindi lo potevi fa dopo che l'aveva fatto lui soprattutto non capendo che c'è dietro per esempio fontana perché è stato uno che ha distrutto e quindi per me non regge il concetto del stato un anticipatore lucio fontana è stato un estremo anticipatore perché io ti prendo una tela che è sempre stata una visione del mondo all'interno è un frame bidimensionale a due dimensioni ti applico un taglio che per tante persone si vabbè i tagli di fontana che so lui ha creato ha fatto una trasposizione da pittura scultura e è passato dal bidimensione il 2d al 3d con un taglio quell'opera non può essere più considerata in sé una tela a due dimensioni ma una scultura a tre dimensioni e vagliela di a fontana che a un anticipatore ne hanno capito come tantissimi altri provocatori come manzoni poi potremmo parlare nel più recente di maurizio cattelan di marina bramovic e così via ma prima di parlare di questo la provocazione e la visione che tu vedi in questo quindi anche la visione che hai dell'arte contemporanea della della provocazione e del perché tante persone hanno sta visione vorrei affrontare il punto di vista che tanti hanno sull'arte anche tanti critici per tanti la visione dell'arte cioè il che cos'è l'arte è vista come un qualsiasi prodotto che è dal mondo delle idee che a livello creativo una manipolazione della tua visione il filtro della realtà che è fatta svincolata da ogni utilizzo quindi dicono l'oggetto di design ha uno scopo cioè voglio vendere quell'oggetto che può essere o utile o allo stesso e quindi oggetto o col design dare quel plus aggiuntivo all'interno di un'abitazione di un posto e quindi c'è un concetto precedente fatto con fine utilitaristico e quindi di mercato per tanti la visione è questa volevo sapere tu che ne pensavi su questa visione se è veramente l'arte è tutto quello che è svincolato da un concetto di vendita o mercato o meno ecco allora secondo me si è svincolato dal concetto di vendita anche se tu dici vabbè però comunque c'è il bisogno di approvazione eccetera secondo me l'artista cioè per me per me non è una verità assoluta questo ovviamente per me è svincolato perché se io mi sento artista e faccio una cosa io esprimo me stesso cioè l'arte per me è espressione di se stessi e non coinvolge il mercato poi ovviamente è una cosa è una cosa che viene in modo secondario nel senso cioè se tu riesci ad aprirti le porte al mercato ovviamente ti si apriranno altre strade eccetera farai un percorso diverso però comunque tu inizi già da una base tua personale e che è quella se tu ti senti artista è sempre quello per me se tu ti senti artista e fai arte la fai comunque a priori e non c'è concetto che regge secondo per me che riguarda il mercato che ti definisce artista perché allora torniamo all'inizio del dell'episodio dove tu dici l'etichetta non te la applicano gli altri me la applico da solo cioè io mi applico l'etichetta di artista perché mi voglio svincolare da tutta una serie di etichette che mi vengono applicate e io scelgo la mia allora se tu scegli la tua e non stai nel nel flusso del mercato non vendi eccetera tu ti senti artista tu sei un artista e fai delle opere incredibili nonostante comunque in generale non ti trovi a livello e diciamo in cima nel mercato a fare vendite spropositate in questo senso ti voglio chiedere se per te oggi giorno è difficile diventare a livello di mercato artista quindi sfondare in questo senso o è invariato nel senso che tipo 20 30 anni fa o 40 50 anni fa ci mettevano di più ad essere apprezzati a diventare artisti o magari anche perché no magari oggi c'è un punto di stallo dove uno dice ok io posso diventare un artista io no e quindi è una scelta e avendo instagram avendo social avendo tutto ciò che comunque ti permette di arrivare al pubblico in più modi non soltanto attraverso quelli tradizionali tu riesci comunque a raggiungere quell'obiettivo che un tempo se se faticava di più raggiunge guarda non non la vedo come in tanti settori meglio prima il peggio prima nel senso prima c'era magari più spazio ma più difficoltà adesso c'è più facilità ma più competizione quindi ci sono diciamo sono cambiate le bilancie c'è i pesi sulla bilancia e quindi adesso ai più canali per potenzialmente farti conosce ma anche per entrare in contatto con altri artisti molto più facilmente perché se pensiamo che una volta una committenza ad un leonardo da vinci chiamato dal pontificio dove arriva a roma doveva arriva giù vede opere eccetera la contaminazione era molto più lunga i tempi erano lenti e dilatati quindi quella era più difficile ma allo stesso tempo nel momento che ti affermavi avevi dietro un mecenatismo più portato anche al narcisismo devo le opere prese dalla tua arte ad oggi c'è molta più competizione soprattutto non c'è più la visione artistica di un tempo cioè adesso ti devi mettere in testa che l'arte ha decentrato l'opera rispetto all'artista cioè warrell ha creato un punto di rottura ma ha creato anche un cambiamento netto che per tanti aspetti può essere anche negativo perché io sai quanto amo warrell però io tutti li amo ma tutti li odio cioè li guardo con la lente di ingrandimento e la conseguenza che adesso te li metto in testa che la visione artistica non è più dell'artista parigino che tra intorno a momart si incontrava con tutti è più una visione da star quindi ti devi impostare nel mercato come un'immagine da star ed è per quello che poi l'esplosione dei tanti personaggi è l'artista al centro di tutto il mondo e l'opera diventa relativa perché ad oggi se vai a vedere se ti prende vari campi te prenderei marina abramoic maurizio cattelan damien erst e te e banksy tutti quanti sono loro il centro l'opera abbastanza irrilevante molto molto irrilevante perché è importante nell'aspetto della provocazione in cui la fanno ma poi tu potenzialmente fatichi a ricordarti x opere ti ricordi più l'artista per carità è ovvio che ti puoi ricordare la nona ora dei cattelan te puoi ricordare tutte le opere dei performance live della della bramovic ti puoi ricordare magari l'opera con lo squalo sotto formaldei di damien erst o magari due poliziotti che a londra si baciano a londra dei banksy ma trasposto quello vai direttamente sull'immagine artista quindi secondo me non c'è più difficile un più facile è proprio diverso l'approccio che tu adesso devi avere nell'emergere riguardo però al discorso che dici prima io credo che è giusto come ho detto io prima che tu ti devi autotitolare se ti ci senti ma allo stesso tempo siamo in una società in un'interrelazione umana tra persone ed è giusto il fatto che si argini anche magari una follia cioè non basta che io sono artista sì ma io per esempio ti dico sono artista ma me faccio duemila visioni duemila calcoli del concetto di come vivo il filtro oltre a quello che esce in maniera viscerale a livello creativo ma devi pensare che c'è pieno di gente che fa delle cialtronate epiche proprio senza una visione con l'unico e solo l'obiettivo di sfondare e si sente artista come immagine che ti potenzia ti pompa a livello sociale con l'intenzione voler soltanto sfondare a livello di mercato e quindi c'è un modo per arginare quindi che anche le persone intorno però quasi entra in un contrasto si entra nel contrasto che per tantissime persone a livello di grande massa la visione dell'arte è molto bloccata perché soprattutto in italia che abbiamo quintali di opere incredibili allo stesso tempo quello ci penalizza in alcuni casi perché noi molto spesso noi intendo italia europa non io in particolar modo ma diciamo come comunità per questo è incredibile perché poi dico l'italia ma se tu pensi a tutta la grandissima tradizione francese a tutti i vittori fiamminghi c'è un fulcro una potenza enorme che però ha fatto sì da convincere persone che l'arte è solo il bello e irraggiungibile in che senso quella cosa è fatta incredibilmente fedele è incredibilmente realistica e allo stesso tempo io non so capace da lì nasce poi quell'altra invece la sapo fa pure io ma non è arte solo quello oppure nasce la paura nel senso che prima abbiamo parlato di provocazione e abbiamo citato anche abramovic in questo senso abramovic ci ha messo tanti anni a sfondare ad arrivare a dove adesso no a molte persone con la sua arte e lei nonostante questo negli anni in cui appunto magari era poco conosciuta era poco riconosciuta non è che si sentiva meno artista lei si sentiva artista era artista faceva le sue opere nonostante non ci fosse riconoscimento riconoscimento quindi continuava sulla sua strada continuava a produrre la sua arte continuava 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 instancabile perché l'artista in verità è instancabile qui possiamo dire anche che magari l'artista vive della sua arte oppure è la sua stessa arte in alcuni casi e abbiamo un abramovic che della provocazione ti fa arrivare cosa paura cioè tu cosa percepisci dalla performance che stai guardando no perché io ti parlo di lei perché è un artista che mi ha totalmente cambiato la visione dell'arte mentre prima potevo apprezzare un disegno un qualcosa una scultura eccetera qui abbiamo il corpo l'essere umano che comunica a un altro essere umano e in certo senso è molto più profondo intenso e la paura che nasce guardando questa performance è cavolo ci sono ci sono anch'io lì dentro riguardo lei io ho una provocazione e sai quanto l'amo quindi è una provocazione che mi sfida me stesso e miei le mie convinzioni se marina abramovic in un universo parallelo non fosse stata mai riconosciuta e fosse rimasta a quel periodo in cui faticava nelle prime performance live a napoli o in giro in europa in olanda da amsterdam non fosse stata mai riconosciuta dal mercato e avessimo visto una persona sconosciuta non idolatratta da tutti che magari si taglia il ventre creando un pentacolo verso col col vertice verso il basso o magari stesa su dei blocchi di ghiaccio o seduta su una sedia che non è una sedia è un tavolo al moma new york ma è una sedia dispersa in un suo paesino della serbia noi l'avremmo vista come una grande artista o no secondo me le menti iniziano ad aprirsi a creare un modello di arte mano a mano che l'artista continua per serverare nella sua arte nel senso che un giorno la vedi sulla sua sedia nel suo paesino della serbia il secondo giorno la vedi ancora lì sulla sua sedia il terzo giorno la vedi ancora lì a un certo punto ti inizi a fare domande quell'immagine ti comunica qualcosa quella persona ti comunica qualcosa quando la guardi e in quel momento nasce una scintilla tra te quella persona e io credo che il pensiero la mentalità dia forma a una nuova un nuovo approccio verso l'arte quindi quella cosa lì banale potrebbe sembrare banale sei tu che la rendi non banale il tuo sentire quella cosa la rende non banale quindi tu stai seduto lì sulla sedia ma potrebbe essere che più persone io te 10 20 30 40 persone stiamo lì intorno proviamo qualcosa ci emozioniamo in quel momento quella è arte io ho una visione diversa io penso che per la grande massa sarebbe vista come pazza invece perché l'arte ha bisogno anche del teatro che te mette su un palco e te suggestione e t'auto suggestione sì ma se tu vedi una persona in un paesino della serbia dispersa e sta tre giorni la seduta cinque giorni da prendi vena matta bisogna fai conti pure di quanto l'arte te suggestiona se c'è tutto un palcoscenico un teatro che lavora con te per darti quell'esperienza molte sue performance le ha fatte da sola e spesso e volentieri le ha fatte in mezzo alla strada non è che ha radunato le persone non ha convocato qualcuno all'inizio all'inizio della sua carriera e all'inizio come era vista era vista come una matta l'arte va vista come collettività non solo come singolo è fondamentale siamo quello che ti dicevo una volta siamo io poi siamo due persone io e te 20 persone 30 persone 40 persone l'insieme crea forma quella scintilla quel pensiero che rende apre la porta a un è quello che ti stavo dicendo secondo me è quello no no l'ho capita lo tu hai una visione diversa proprio totale su questo perché il grande palcoscenico non te lo mettono in atto le persone della società alla massa quasi mai quasi mai forse pochissimi esempi e molto spesso invece la struttura grande che c'è dietro il mercato e che nel momento che accetta e riconosce o qualcuno intravede quella storia che c'è dietro quell'essenza allora ti dà gli strumenti con tutti gli addetti ai lavori che tegrano quel palco meraviglioso perché è una rappresentazione teatrale della realtà all'arte in qualche modo le persone da sé non so unite so singole tant'è che la grande massa vive l'arte per come gli è stata data come gli è stata data la chiave di lettura dell'arte per la grande massa non è ognuno in tasca c'è la sua chiave ma ognuno va a prendere una copia della stessa chiave vede l'arte in quel modo ed è per quello che la visione c'è dell'arte vera è quella della pittura e la scultura fatta bene molta critica da parte di chi da parte della massa anche sul mercato persone che ci lavorano con l'arte vengono cioè si mettono lì a criticare artisti che sono mondialmente riconosciuti come artisti però si mettono puntualmente lì a dire ma questo non è un artista questo questo qui che cosa mi rappresenta quello che sta facendo anche abramovic tutt'oggi ok è riconosciuta ma c'è sempre quel che critico ecco perché ti dico che è molto molto soggettivo molto soggettivo però c'è sta un alone oggettivo che tu non puoi è come se io ti dicessi a me non mi piacciono i queen e dicessi che è una musica oggettivamente è una bella musica è molto soggettivo l'arte soggettiva sì però se marina abramovic avesse una persona identica che fa le stesse identiche cose uguale una a uno sono tutte e due la stessa tipo d'artista o no? assolutamente no perché l'anima cambia la persona cambia il vissuto cambia come tu fai quell'opera cambia infatti lei comunque con la sua scuola sta dando lezioni fa un percorso diciamo tra virgolette anche perché no esoterico e crea questo artista nella sua scuola dove un domani magari ci ritroveremo una che ha preso lezioni da abramovic e fa le sue stesse cose in maniera sua in personale eccetera ma non è che stiamo guardando abramovic ognuno ha la sua anima ognuno trasporta la sua arte ognuno anche se tu segui quello stile lì sei diverso comunichi cose diverse a te arriva in modo diverso sì io ho preso l'esempio a marina abramovic ma andrebbe comunque chiunque cioè potrebbe essere cattelanno o tutti gli altri io continuo a avere una visione collettiva dell'arte quindi se tutto l'ecosistema non crea un teatro sì sei un artista ma nessuno a livello sociale o almeno grande massa la vedrebbe tale e questo perché la visione è stata data su dei fondamentali ed ecco pure perché c'è la conseguenza che tanti magari criticano abramovic o cattelanna perché la loro visione è stata data su l'irraggiungibilità infatti secondo la grande massa nella maggior parte dei casi se senti persone comuni di ogni tipo la visione dell'arte è più qualcosa di difficile inarrivabile ed è unico mentre per altri che possono essere più vicini alla mia visione l'arte è l'idea o il concetto quindi per te l'arte è la realizzazione totale della filiera o è solo l'idea? l'esempio per almeno il mercato e per tante persone Jeff Koons è uno degli artisti più in voga anche a livello di mercato perché al momento che vendi un rabbit a 91.5 milioni di dollari è evidente che almeno a livello di mercato non si può di niente poi uno potrà dire qualsiasi altra cosa ma per tanti non è arte perché prende lui con crea un concept all'idea ma poi è una schiera di decine e decine e decine di artisti che realizzano fisicamente il suo concetto di opera e io volevo sapere la tua visione per tanti è arte perché l'arte è l'idea l'artista ha concepito l'idea basta pure Warhol Warhol è serigrafia non è che faceva solo lui dopo un po' cioè serigrafia iniziava a far chiunque o per esempio un altro esempio di Warhol è Oxidation Painting Oxidation Painting è un'opera d'esta lastra su cui si faceva pipì sopra e sossidava e si creava una cosa ma addirittura lui per dirte una volta che è sceso dalla factory chiamò una prostituta che conosceva e gli chiese e poi addirittura buongiorno al suo ragazzo puoi far pipì qua puoi piscià qua ma secondo me queste fazioni cioè alla fine l'arte è un mix di cose perché deve essere o questo o quello cioè non potrebbero essere tutte e due le cose o più cose tre cose quattro cose cinque cose perché dobbiamo fare fazioni anche qui nel senso che secondo me sì l'artista è quello che crea l'idea è quello che ce l'ha l'idea puoi farla fare anche a un'altra persona perché no ma tu rimani comunque l'artista io sono d'accordo con questo ma unisco anche altre cose non faccio due fazioni non sono di quella categoria non la penso in quel modo ed escludo altro per me è un insieme di cose infatti Abramovic ha avuto idee l'ha riprodotta lei ok un domani le farà riprodurre a qualcun altro perché magari avrà appunto 70-80 anni però c'ha ancora idee perché l'artista rimane giovane comunque con le sue idee con il suo spirito e quindi riesce riesce comunque a fare arte e secondo me ti ripeto è un mix di cose io sono molto d'accordo su questo infatti però credo che sia giusto il dibattito è giusto interrogarsi Jeff Koons è davvero un artista o è un imprenditore un industriale che crea il concept di Rabbit per esempio e poi lo fa eseguire credo che la domanda sia lecita poi sulla visione sono molto abbastanza concorde con la tua quanto questo può spingersi a livello artistico esempio mi viene in mente un Abramovic come dici tu arriva 80 anni 90 anni gli auguro 100 e quanto vuole può essere considerata arte se addirittura lei si fa sostituire cioè poi questa non vorrei che me la rubi Marina no cioè la visione dell'alter ego cioè che siccome arriva metti a 100 anni ha un'idea ma poi tutta la filiera artistica dalla performance all'esecuzione al post arte viene fatto da un suo avatar cioè da una ragazza che diventa Marina Abramovic con lo stesso nome cioè la mia visione è questa non che sta ragazza si chiama che ne so Marinella Persichetti ma si chiama comunque Marina Abramovic perché diventa un avatar quindi il suo nome diventa quello e da quel momento anche se muore poi può continuare cioè tutta una visione mia distopica della visione artistica però volevo sapere tu in sta cosa diciamo magari che sto ad in maniera folle come la vedevi proprio a sentimento allora ti dico che in un certo senso lei questa cosa l'ha già fatta al MoMA dove lei si ritrova comunque a stare seduta per otto giorni quanto durava comunque l'esposizione al MoMA e tutte le altre sue performance venivano fatte da altre persone e in teoria possiamo vederla anche lì come una sostituzione nel senso non lo stai facendo tu lo stanno facendo altre persone non stai non ti sei incisa tu questa volta la stella sulla pancia non stai sdraiata tu sul ghiaccio questa volta non ti stai dando gli schiaffi con un'altra persona tu questa volta tu sei solamente seduta lì sulla sedia mentre gli altri eseguono le tue performance e Abramovic sta in tutte quelle persone perché la sua opera sta in tutte quelle persone perché le persone riproducono la sua opera e quindi l'artista comunque rimane vivo nella sua opera anche se la fa qualcun altro anche se la riproduce qualcun altro se tu domani mi fai un disegno uguale a come l'ha fatto Leonardo io lo guardo e dico l'ha fatto Alessandro ma l'opera è comunque l'artista di chi è no quello lì di quello che ha fatto lei durante l'esposizione nella performance al momo ok io intendo proprio che esiste un solo avatar arte rego che diventa Marina Abramovic e che la sostituisce da quel momento in poi e potenzialmente anche alla sua morte perché dovrebbe farlo in questo cioè se è viva ma anche se ne sei muore perché cioè l'artista quando muore muore invece secondo me sarebbe estremamente affascinante perché arrivi al punto è l'opera finale dell'artista l'artista nel concetto finale esplode nel mercato e poi piano piano sparisce rilasciando di nuovo lo spazio all'opera sarebbe perfetto ma come fai a portare la tua opera dentro un'altra persona se quella persona non ha la tua anima il tuo essere il tuo intuito il tuo pensiero la tua cioè io non capisco questo avatar che tu hai in mente nel senso tu dici esiste un'altra persona che io ho creato così quando non ci sono più questa persona continua a fare le mie opere ma quella persona comunque non è lei quindi se lei lo fa finché è in vita non è un artista quella che è l'avatar cioè tutte quelle persone che l'hanno fatto ma non lo è comunque e allora e allora qui non si entra però in un blocco oggettificante cioè tutte quelle persone che hanno interpretato Marina Abramovic mentre lei era seduta a MoMA non diventano oggetti di una performance sono oggetti di una performance e vabbè allora qui potrebbe aprirsi un altro capitolo cioè si potrebbe aprire un capitolo dello sfruttamento dell'artista che è la stessa cosa che touch on a Jeff Koons perché tu non sei più un dipinto che gira ma sei una persona che viene estrapolata dalla sua anima per far quello che invece vede Marina quelle persone fanno parte dell'arte dell'opera quelle persone sono l'opera no l'opera è di lei che viene interpretata è ben diverso quelle persone diventano l'opera nel momento in cui la eseguono perché lei nel momento in cui la eseguiva era essa stessa l'opera nel senso che se tu ti metti al suo posto tu stai riproducendo l'opera tu devi abbracciare quell'opera la devi sentire ecco perché c'è un percorso che lei fa con queste persone c'è stata tre mesi queste persone che sono state scelte non sono tutti tutti artisti cioè chi era un modello chi magari era un fotografo chi magari non era niente chi si è rappresentato lì semplicemente perché la adorava amava la sua arte voleva fare qualcosa voleva essere coinvolto perché piccola provocazione se fossi un artista non accetteresti mai quella roba allora concordi con me che tu comunque in un certo senso sei un oggetto di quella cosa l'ho detto io l'ho detto io che sono oggetti e ho confermato allora mi trovo d'accordo con te su questo eh appunto guarda quella mia idea invece dell'arte che a me piace non è una cosa che posso cioè me la metto da parte ma non la scarto invece a me a me piace potenzialmente perché se c'è un progresso dell'artista che studia tutto in anticipo esce prima di morire si tira fuori dall'opera che è un po' la stessa cosa che sta dietro le quinte la stessa cosa invece che un esempio Marina Abramo sta a fare una performance invece si ritira da vita pubblica e continua quell'alter ego a fare performance è la stessa cosa da adesso gli ha fatto un percorso io continuo a fare in privato però c'è sto personaggio che è il suo alter ego e forse sublima a livello più alto l'illusorietà anche del mercato artistico scusa ma qui allora l'altra persona che continua ad eseguire 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 non perde se stesso certo ma quante persone al di fuori dell'arte perdono se stesse per fare qualcosa che non gli appartiene quasi tutte quante sono spolpate della loro anima per fare roba che gli fa schifo meglio essere un'interprete di Marina Abramo che fa qualcosa che odi profondamente senza nessuno scopo soltanto per tirare avanti in una vita miserabile capito cioè non la vedo così brutta rispetto a tante altre cose fuori dall'arte assolutamente no però sono comunque due estremi nel senso che è molto estremo annullare se stessi per fare un per riprodurre un'opera di un artista che tu ami cioè tu dovresti annullare te stesso ciò che sei per continuare la scia dell'artista che ami perché è morto ormai ma dovresti comunque produrre altre nuove idee che fai riproduci tutta la vita le stesse performance tutta quanta la vita dovresti essere innovatore cioè comunque ideatore di qualcosa no perché tu in privato le continui a elaborare e poi in pubblico mandi quella persona che è il tuo alter ego ma sei morta io cazzo adesso non sto a parlare morta io ti ho detto se lei se ti ritira come tantissimi artisti cioè Maurizio Cattelana prima devi fare la banana a Miami era 15 anni che è sparito però se usciva qualche opera di Maurizio Cattelana Maurizio Cattelana comunque come essenza è sparito a livello pubblico se ne è più cioè tranne toilet paper o i collaborazioni a livello dei design è sparito poi io ti sto a dire la mia è un'assurdità visiva che però mi stimola molto del proseguire in artista per capire dove l'illusorietà dell'arte si può spinge fino a svanire perché guarda che il processo artistico dall'inizio dell'essere umano ha fatto un percorso a piedi pari con l'essere umano cioè prima si è analizzato un po' quello che si viveva e sperimentava con la visione poi si è andato avanti rappresentando le persone all'interno della visione della società si è arrivata al rinascimento cercando il bello nella visione dell'uomo e poi si è arrivata con l'arte contemporanea a portare soltanto quello che c'è dentro l'uomo levando l'opera in favore dell'artista più potente dell'opera il passaggio successivo è l'annilichimento dell'artista è la terza fase dell'opera non ti dico che succederà in sta visione mia ma ci sarà una visione in cui l'artista si smembra totalmente dalla visione un primo processo di passaggio che c'è sono gli artisti anonimi Banksy sta a far quello sta ritornando a far sparire l'artista moltiplicato mille cioè l'artista warroliano è rockstar l'artista Banksy è sparito che è ancora più sparito dell'artista classico che potesse Leonardo che però era conosciuto Don Michelangelo ci sarà una terza fase in cui svanirà tutto che è l'ultima fase artistica da provocazione cioè quella che prosegue dopo le provocazioni di Cattelan che per me pure Cattelan per esempio tanti sostengono che non sia arte per me l'arte di Cattelan è più nella provocazione che nell'opera stessa guarda mi hai aperto un mondo perché adesso che mi hai ripetuto per l'ennesima volta il tuo pensiero perché non l'avevo captato in tutte le sue forme in tutte le sue prospettive devo dire che è molto interessante quindi tu dici l'arte continua a vivere anche attraverso un altro cioè non devo essere per forza io a farla ma visto che l'artista siamo d'accordo tutte e due che comprende anche stare dietro l'idea quindi produrre l'idea l'idea continua a essere prodotta da me però la fa qualcun altro e in un certo senso questa cosa viene fatta anche dal regista che fa il film esatto infatti il punto dove volevo arrivare nell'arte precedente c'era l'oggetto che rimaneva e proseguiva adesso che si sta annichilendo e sta sfumando totalmente l'opera l'opera come prosegue? con un video della performance di Marina Abramowicz e allora potrebbe essere che quell'opera che è totalmente smembrata invece prosegue a livello fisico mi piace un casino questa cosa ma magari hai visto hai visto che era una grande idea bellissima questa cosa se me la volete proprio prendere fatemi una chiamatina così insomma vedo una mano vedo una mano è chiaro che è nata qui questa cosa confermiamolo tutti assolutamente cioè non transigo non transigo ma infatti io confermo che tu sei un artista e quindi è normale che le grandi idee nascono da chi è avete sentito sto sempre più venendo riconosciuto a livello di mercato signori quindi io direi che per concludere questo episodio svaniamo come l'arte a livello di mercato